Ciao ragazzi, qui Reisiv, de DeBanned, e bentornati su Creativerse, al terzo appuntamento siamo arrivati E nell'ultimo appuntamento siamo rimasti con io, che scoprivo la... come si chiama? Ah, scoprivo come fare la Rodstone e la Woodrood, la Stonerood, come cazzo si chiamano? I due bastoni che poi servono per fare il mondo Inoltre abbiamo creato questo, l'Obsidian Mining Cell Allora ragazzi, è finito, quindi ci prendiamo tutte le cose di qua Le cose della forgia E ora ci facciamo l'Advanced Extractor Craft Per fare questo serve un'altra Stone Slab Quindi io me ne faccio altre due così da non perdere tempo Inoltre faccio uno di questo, altri due di questo E mi faccio pure delle torce Il Woodrood come si faceva? Allora il Woodrood si faceva... ah, con questi Ok, quindi se faccio qua, me ne faccio quattro di questi Quattro di questi Prendo queste e me ne faccio altri quattro La Stone pure Aspettiamo il tutto Ok ragazzi, ha finito tutto, quindi li prendiamo Ci facciamo subito Un... questo Il Extractor Ci riprendiamo tutte e due Eh, io direi di farci anche le Torch Ce ne facciamo... tre Non so però quanto ne vengono Ah, siamo full Eh, perché ci serve la chest Ma io non so come... fare Cos'è questo? Rock test Rock star rock Noi possiamo buttare la grass Yes Il Mud non so cos'è, quindi non lo buttiamo Eh, buttiamo, buttiamo, buttiamo Questo, il Wood Mining che non ci serve più Quindi abbiamo due slot Dove... Ah, qua Prendiamo tutto Quanto Torcio abbiamo? Ah, ne abbiamo dodici Quindi noi scipiamo prima queste da cinque Possiamo ancora ne abbiamo una Ok Ragazzi, io direi di smontare da qui Perché non... Oh, cazzo Eh, perché non c'è più niente Là abbiamo esplorato tutto Quindi non... non credo ci sia niente Ok, ragazzi, ho controllato ma non... non c'è niente Quindi ora smontiamo Prendiamo tutte queste cose Il... come si fa a prendere il processo? Io... ah, è tutto full Devo buttare delle cose Ma non so come Buttare Toning... questo non mi interessa Ah, like a Furnace Se io la butto Vabbè, non è Furnace Se io la forgio No Ok, va a fuck Via Allora, questa la buttiamo Poi buttiamo anche... Non so cosa Non so cosa qua La... 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 basta Ho detto E prendiamo questo E la forgia Ok, ora ce ne possiamo andare Passiamo di qui Oddio, ragazzi, allora Stiamo facendo una cosa assurda Ho trovato questo E io ora mi ci butto Non me ne frega niente Se moriremo Ci mettiamo Lo spawn qua Così sono cazzi Pure se moriremo non me ne frega niente Ma io questo lo picchio E lo picchierò bene Ecco Oh, cazzo Ma chi sono alien? Che cazzo sono questi? Ah, tu non puoi venire Va bene Allora, mettiamo questo Questo qua Ok Col due Sì, ma tu devi morire però Amico, aspetta un attimo Una alla volta Una alla volta Attento, una alla volta però Un attimo Ora giochiamo What the fuck Oh, ora, ora Un salato in meno di giù Avete rotto il cazzo? Ah, che cacchio Oh, lì Ma tu non muori figlio mio però Mori 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 Pure tu, mori Dai Mamma mia, grazie Come io ritemi Full Cosa Ma Questo è proprio per lasciarlo qui Oh Wow 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 Allora ragazzi Li dobbiamo ammazzare tutti Ora basta Facciamo spawn kill Qua diretto Ok Mori 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 Dai Mori 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 Bello fare spawn kill così ragazzi Molto utile Sì, sì Allora picchiamo pure questo 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 Che cazzo What? Succede? Non vedo niente Fa una specie di luce Come effetto speciale lui Ma non ho capito se fa male O è stronzo lui Proprio Secondo me è stronzo lui Però Cioè è da chiedere Comunque ragazzi Cioè Bisogna chiedere Oddio Con sto inventario Facciamo così va Tu mettiti qua Due Io ora La metto Ok grazie Ma mi prendi per il colo? What the fuck? Man Ma fa cura la mod Abbiamo preso tutto Qua prendiamo tutto Bello Ok fatto E uno Dei 150 È morto Ora picchiamo pure te Non c'è problema Guarda Non c'è problema Guarda Ma che cazzo fa Ma mi butta al muro? Ehi Ehi Cattivone Cattivone Basta Ho detto basta Dai Smettila Ok Prendiamo tutto Però dobbiamo illuminare Le percorse Perché non si vede niente Non si vede niente Ah io direi di Illuminare con quelle buone Perché Ah non ci vedo proprio niente Bello Così si illumina uno Alla via Pam Ok Poi andiamo qui Facciamo Pam Ok Ci prendiamo questo E nella cesta che c'è Oh Explosive bomb Oh my god E dove me l'ha messo? Ok Tutto qui Ah ho rotto tutto praticamente Non c'ho più niente Ma è giusto pure così Perché Ho incontrato Quelle schifose bestie Sembrano quelle di alien Sono uscite proprio da lì Hanno fatto proprio il film Ok Ma chissà cosa serve Sto glowing mushroom E io ho preso la wood No vero? No vero Ma che stai dicendo Ma che stai dicendo? Comunque Comunque ragazzi Comunque Oh coal Oh oh ma Sì la torcia Ragazzi mettete sempre la torcia Nella coal Che Rafforzerà Il materiale E ve lo farà uscire proprio Liquido Perché appunto Lo state rafforzando Capito? Cioè è la Sinestesia inversa Della 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 Arictanofash Della Arictanofash Allora se non lo Non so se non capite Andate su wikipedia Molto utile Quanto coal c'è? Oh Ma che cos'è? Eh ma qua ci vuole Pausa Ci dobbiamo attrezzare A me ne due Veloce Veloce Ok Uno Tom Tom Fatto Allora ragazzi Ho finito di Prendere tutta la coal Quindi noi ce la prendiamo tutta Take coal Andiamo qui Take coal Take coal Però io Secondo me Quello L'extractor Quello avanzato Secondo me Serve Per non fare rompere Tutti gli altri Extractor Quindi Noi mettiamo ad esempio Quello blu Per un materiale E poi lo possiamo riprendere Secondo me Ad esempio Lo proviamo Lo mettiamo Ci sta due minuti Nel frattempo Andiamo ad esplorare qua Vediamo se riusciamo a trovare Cosa c'è lì Magnetite Magnetite Come si chiama Non lo so neanche io Ah ok La magnetite Io non mi ricordavo Ma Con la magnetite La magnetite Si può prendere Senza L'extractor Anche Ok mettiamo un po' di torch Questo ce lo prendiamo Io ho bisogno Del beeswax Come si chiama Quel coso Quello giallo E Dell'iron Solo che Dobbiamo Trovarlo Ok ragazzi Hanno finito Le due cose Comunque ho detto Una cazzata Il coso Quello blu Servirà Per l'obsidian Quindi per quelle Cosa avanzate Ma neanche per l'obsidian Secondo me Ho sbagliato pure io A metterlo Per le cose avanzate Che non Che per ora Non se ne vedono Perché Ancora non abbiamo trovato Niente di Iron Queste cose nuove Ok ragazzi Ho attratto Uno stronzetto Proprio Che ora deve venire A rompere Quindi direi Di picchiarlo A morte Vieni qua Vieni qua Tranquillo Tranquillo Tranquilloso Tranquilloso Ehi scendi Scendi Ma non ci fai più paura Ma proprio Non sei niente Comunque ragazzi È notte Quindi io direi Di Aspettare il giorno Nel prossimo appuntamento Ci andremo Secondo me Io vorrei fare la casa Quindi Andiamo a Fermare un po' di alberi Così da farci I tronchi Quelli belli Però ce ne servono molti Perché bisogna Bisogna Farli col processor Quindi Direi di Per ora Fermarci qui Perché non posso uscire La grotta in fondo Sono andato a controllare Ed è finita Quindi poi si va Verso l'esterno Vabbè Ci possiamo pure Ad entrare All'esterno Vabbè ragazzi Dai Ci proviamo Tanto Siamo morti 150 volte Un'altra morte Non ci farà Male Dai Che cazzo Ragazzi ho fatto un Volo Ragazzi ho fatto un Volo di 13.000 metri Oh ragazzi Non l'avevo visto Che c'era un buco Se fosse stato Come su minecraft Io a quest'ora Ero bello Che morto Spiaccicato a terra Però Abbiamo notato Che non si muore D'altezze Medio-alte Quindi per morire Ti devi buttare Proprio dal Crepuzio Di Antontontan Noi tutti sappiamo Dove è quel posto E quanto sia alto Soprattutto Uh L'obsidian Ok ragazzi Abbiamo preso tutto Abbiamo preso sia la colla Che l'obsidian E io direi Che come Per questo appuntamento È tutto oggi Alla prossimo appuntamento Andiamo A esplorare È dritto Sinistra E destra Della grotta Inoltre vorrei farmi Pure la casa Quindi vediamo Se ce la faccio Tutto in un episodio Comunque Per oggi è tutto Se il video Vi è piaciuto Commentate Lasciate un like Iscrivetevi Se volete Da Resiv È tutto Ciao